Sviluppa capacità, sviluppa funzioni sociali, capacità di rapporto, fantasia, logica, competenze psicomotorie. Da questo punto di vista il gioco, questo vero, è un motore di auto-efficacia e noi dobbiamo molto alla perdita del gioco di strada e quindi anche a uno strovaggimento della vita sociale dentro le città dove non c'è più lo spazio anche per questo perché le automobili hanno mangiato tutto perché non c'è più la piazza, perché c'è solo spazio per scorrere e non per restare noi dobbiamo a questo anche se i nostri ragazzi non hanno occasione di sentirsi protagonisti quindi io la ringrazio per questa cosa, pensiamo che sia giusto fare prevenzione sugli aspetti negativi quando c'è un fattore di rischio è giusto anche non perdere l'attenzione ai fattori che promuovono migliore qualità della vita noi se avessimo più gioco sano forse avremmo meno attrazione anche in queste offerte diverse.